C'è anche Romeo, il robottino ideato dagli studenti dell'ISIS Fermi di Bibiena tra le invenzioni finaliste del concorso Infactor 2017, la competizione dedicata alla creatività giovanile, promossa dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dalla Commissione Europea, alla quale ogni anno partecipano decine di scuole italiane. Dunque, dopo il seggiolino Salva Bebé e il robot Tutor 1 che assiste agli anziani, gli studenti dell'ISIS provano nuovamente a scalare le vette dell'Infactor, dopo che negli anni precedenti erano riuscite a salire sul foglio più alto a livello nazionale. Romeo, che già stato ribattezzato robot fiuta pericoli, è stato pensato per esplorare ambienti con elevati rischi per l'incolumità dell'uomo, come ad esempio incendi, terremoti o attacchi terroristici, e per riportare all'operatore che lo guida informazioni sull'ambiente che lo circondano. Il robot è infatti in grado di rilevare presenza di gas, sostanze nocive e di misurare la temperatura esterna, tutto ciò grazie all'impiego di una telecamera e di un sistema di comunicazione audio bidirezionale. Le invenzioni vincitrici saranno decretate il 28 settembre a Roma. Novità in arrivo anche per quanto riguarda il seggiolino, ricordati di me, ideato dagli studenti dell'ISIS TV Biena, che si era giudicato nel 2013 il primo posto al concorso Infactor. Il seggiolino era stato infatti brevettato, ma ancora in attesa di qualcuno che lo producesse. Dopo la tragedia di Castelfranco, dove una bimba di 18 mesi è morta dopo essere stata dimenticata in auto, i riflettori si erano nuovamente accesi sul seggiolino, ed il presidente di Estra, Francesco Macri, ha già espresso la volontà di dare un proprio contributo perché finalmente entri in produzione.